Musica Sassano, costituito il forum dei giovani, da ieri al lavoro per le prime attività. Sassano, costituito il forum dei giovani, da ieri al lavoro per le prime attività. Sassano, costituito il forum dei giovani, da ieri al lavoro per le prime attività. Sassano, costituito il forum dei giovani, da ieri al lavoro per le prime attività. Maria Russo, dare vita a programmi e azioni in grado di migliorare la qualità della vita per i giovani e anche di renderli partecipi della vita sociale del paese. Alla cerimonia di insediamento di ieri, oltre 10 giovani del forum, erano presente anche l'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Antonio D'Amato, con tutti i consiglieri e assessori. In primis, l'assessore Russo, che in questi mesi ha lavorato alacremente per la costituzione del gruppo del forum e per farli da subito partire con attività dedicate ai giovani. Nel corso della serata, moderata dalla giornalista Giovanna Quagliano, sono stati presentati i componenti del forum, a partire dal presidente Teresa Calandriello e dal vice presidente Nunzio Di Bella. Tesoriere sarà Gaetano Petrizzo, mentre il ruolo di segretario è stato affidato a Margherita Batemarco. A tutti i componenti sono stati affidati compiti specifici e aree di intervento. Teresa Calandriello è stata nominata responsabile per la politica sanitaria, Nunzio Di Bella allo sport, Gaetano Petrizzo, formazione e istruzione, mentre Margherita Batemarco, razzismo, integrazione e pari opportunità. Questo per ciò che riguarda i membri del direttivo. Per quanto riguarda invece i compiti assegnati agli altri componenti del forum dei giovani, Joanna Pellegrino, lavoro e disoccupazione giovanile, Giuseppe Ferzola, disadattamento e devianza giovanile, Michele Villano, scambi e collaborazioni, Tania Di Bella, tempo libero e vita associativa, Angelo Lisa, politiche culturali e sociali e Luigi Esposito per ambiente urbano, sviluppo rurale, sostenibile e trasporti. Le iscrizioni al forum restano aperte e tutti i giovani che volessero entrare a far parte del gruppo potranno farlo rivolgendosi direttamente al comune di Sassano. Ieri sera in occasione dell'insediamento del forum dei giovani a Sassano abbiamo raccolto le parole del presidente Teresa Calandriello, del vicepresidente Nunzio Di Bella, dell'assessore Maria Russo e del vice sindaco Antonio D'Amato. L'assessorato più importante per noi è stato sempre, come dire, fra virgolette quell'esterno e quindi il forum dei giovani. Già nella scorsa consigliatura insidiamo il forum dei giovani, oggi ripetiamo il nuovo insediamento, quindi guidato oggi all'assessorato in modo brillante appunto dall'assessore Maria Russo. Ci sarà la presentazione appunto un attimo del direttivo con tutti i progetti che loro in modo autonomo vogliono sostenere, vogliono proporre l'amministrazione, vogliono partecipare alla costruzione di questa nuova vita politica e di questo nuovo percorso che abbiamo nel nostro paese a Sassano. La proposta appunto di progetti è la parte fondamentale, credo io, ma penso un po' tutta l'amministrazione crede in questo progetto appunto del forum dei giovani. Praticare quello che sono i problemi del nostro paese, potranno analizzarli e potranno proporre delle risoluzioni. È normale che poi ci sarà un'interfaccia costante e permanente che è quella appunto un attimo dell'assessore Russo che porterà tutte queste istanze all'interno dell'amministrazione, che, come dire, valuteremo, le faremo nostre, daremo autonomia al gruppo e porteremo avanti in piena sinergia nello sviluppo di tutte queste iniziative che portiamo avanti. Quello che ci aspettiamo è di accorciare le distanze tra amministratori e mondo giovanile, in modo tale da dare la possibilità di far partecipare i giovani ai processi decisionali e quindi potrebbe essere un momento di crescita sia per noi amministratori che per loro. Ci incontreremo almeno una volta al mese per aggiornarci sulle questioni e poi, inoltre, loro organizzeranno dei giochi a fine agosto per creare un po' di divertimento all'interno del paese. Sono molto contenta di questo gruppo, è un gruppo che ha voglia di fare, è volenteroso, ha tanta voglia di lavorare. Sono convinta che, insieme a loro e con tutti i componenti del forum, faremo grandi cause, anche perché a Sassano si può. Con questa serata di apertura abbiamo l'intenzione di mostrare quelli che sono i nostri progetti futuri o comunque quello che è il primo progetto che abbiamo già in porto e che inizierà nei prossimi giorni. La nostra intenzione principale è quella di chiamare a partecipare tutti i giovani di Sassano, non soltanto i giovani di Sassano, ma tutti coloro i quali hanno interessi attivi nel comune di Sassano. Sarà modo questo per tutti quanti per poter dimostrare che la voglia di fare da parte di noi giovani c'è. Se ci vengono dati gli strumenti possiamo fare davvero tante cose. Siamo pronti a questa avventura che parte oggi, ce la mettiamo tutta e come ha detto qua il Presidente speriamo che i giovani ci seguano perché abbiamo tanta voglia di fare. Ieri il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha autorizzato investimenti per 40 miliardi assegnandone 25 al Sud. Vediamo i dettagli nel servizio. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel corso della riunione di ieri ha sbloccato investimenti pari a 40 miliardi e oltre la metà sono per il Sud, autorizzando infrastrutture attese da tempo e dando il via ad opera immediatamente cantierabili. 15 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono stati assegnati e non ancora destinati e risultano suddivisi tra infrastrutture oltre 11 miliardi, ambiente quasi 2 miliardi, sviluppo economico e produttivo 1,4 miliardi, agricoltura 400 milioni. Il Comitato ha proceduto inoltre a disporre l'assegnazione delle risorse a balede sul medesimo fondo per finanziare gli interventi relativi al masterplan per il mezzogiorno con 13,4 miliardi da realizzarsi insieme alle risorse comunitarie nelle regioni e nelle città metropolitane del Sud, mediante appositi accordi interistituzionali denominati patti per il Sud. Le assegnazioni che tencono conto degli impieghi già disposti e della chiave di riparto percentuale tra mezzogiorno 80% e centro-nord 20% prevedono 2.780,2 milioni di euro per la regione Campania, per la quale il Comitato ha anche preso atto di riprogrammazioni di piani e risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 e, tra le altre cose, ha approvato le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nella Legge di Stabilità 2015, pari a 90 milioni, per il triennio 2015-2017 per rafforzare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Il piano di investimenti per il Sud ammonta dunque complessivamente a 25 miliardi di euro circa. Da ieri è attivo lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore sul territorio di Vibonati un sistema elettronico per la rilevazione delle infrazioni stradali. Una novità che ha anche suscitato polemiche tra il gruppo di minoranza Vivi il tuo Paese e la maggioranza, in particolare il sindaco Franco Brusco. È datata 8 agosto l'ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale di Vibonati Antonio Quintieri che ha dato disposizione per l'installazione del rilevatore elettronico delle infrazioni al codice della strada sul tratto della SS18 nel comune di Vibonati. Da ieri, come si legge nella stessa ordinanza, è quindi attivo il sistema che rileva la velocità e le altre infrazioni stradali sul tratto con dati fermi al primo giorno di presenza del rilevatore che fanno impallidire. Questa mattina, infatti, il quotidiano La Città parla di oltre 400 infrazioni rilevate dall'impianto con relative multe. Sull'ordinanza si legge tra le considerazioni la necessità di installare l'impianto di controllo della velocità lungo il tratto della Tirrenia Inferiore tra i chilometri 210 più 300 e 214 più 116 al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica. Un provvedimento che, come era prevedibile, ha destato polemiche soprattutto da parte della minoranza consigliare Vivi il tuo Paese, con i consiglieri Manuel Borrelli, Gaetano Capano e Gerardo Di Giacomo che all'indomani dell'emanazione dell'ordinanza hanno immediatamente presentato un'interrogazione al sindaco Franco Brusco e al comandante della Polizia Municipale Quintieri. Nel documento, gli iscriventi evidenziano come la Commissione di Gara ha affidato solo provvisoriamente l'incarico di gestione dell'appalto e che tale aggiudicazione provvisoria può essere quindi suscettibile di revoca e va adottata solo in caso di urgenza dell'attuazione dell'appalto. L'articolo 32 del Decreto Legislativo 50 2016, si legge nella nota firma della minoranza consigliare, consente l'esecuzione d'urgenza dell'appalto soltanto nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. Pertanto, chiedono i consiglieri, se al noleggiatore è riconosciuta o meno una percentuale della sanzione dovuta al trasgressore e di rinviare l'attivazione del servizio di autovelox all'aggiudicazione definitiva, non ricorrendo ai casi specifici d'urgenza di cui è l'articolo 32 del Decreto Legislativo 50 2016. La risposta all'interrogazione arriva dalle pagine del quotidiano alla città affidata a Vito Sansone. Il sindaco Franco Brusco ribadisce il carattere d'urgenza visto il periodo attualmente in essere che vede il Golfo di Policastro e quindi anche Vibonati interessati da un aumento della popolazione e dei visitatori che raggiungono l'area per le vacanze. In un periodo di affollamento dei turisti, spiega il primo cittadino di Vibonati, occorre prevenire e migliorare la sicurezza stradale prima che possano accadere tragedie provocate dall'inciviltà dei automobilisti che possono percorrere l'arteria in modo indisciplinato. Anche il comandante dei vigili, Antonio Quinteri, replica al gruppo di minoranza sottolineando come alla ditta giudicatrice si è riconosciuto una somma di 1,50 euro su ogni multa e assicurando inoltre che tutto il procedimento che ha portato all'installazione del rilevatore elettronico mobile e delle infrazioni stradali è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti. Lo scorso 3 agosto il Comitato Ponte Nuovo attraverso una nota inviata alla provincia di Salerno aveva segnalato l'apertura di una lavoraggine sulla strada provinciale 94. Questa mattina il presidente del Comitato Cristiano Adesso ha accompagnato i tecnici provinciali per il sopralluogo. La provincia ha garantito un intervento dopo il 20 agosto quando effettuerà i lavori per chiudere la lavoraggine e intanto ha installato altra segnaletica così da rallentare le auto che arrivano nella curva. Siamo fiduciosi, questo è il commento del presidente del Comitato Ponte Nuovo. Cambiamo argomento, il turismo è volano di sviluppo per il sud, lo dicono le anticipazioni del rapporto Svimez e lo si percepisce in quest'estate con l'aumento esponenziale del numero di visitatori che raggiungono le zone turistiche della Campania grazie al progetto Cilento Blu. Garantire servizi ai turisti è fondamentale per lo sviluppo del settore, ne è convinto il presidente della fondazione Mida, Francesco Antonio Dorilia, che sottolinea anche la necessità di creare un brand Parco Nazionale Cilento Valodiviano e Alburni. Vediamo. Le anticipazioni del rapporto Svimez di un paio di settimane fa hanno individuato nel turismo un traino per la crescita del sud. Turismo in Campania sul quale si punta fortemente in quest'estate, soprattutto grazie al progetto Cilento Blu, verso in campo dalla regione, che secondo alcuni dati ha contribuito in modo netto all'aumento della presenza di turisti a Salerno e provincia rispetto agli ultimi anni. Il metro del mare, la viabilità su treno e gomma garantite da Trenitalia e Italo hanno facilitato l'approdo anche nelle località più difficilmente raggiungibili. Non solo località di mare, ma anche aree interne che porta visitatori ad esempio alla Certosa di San Lorenzo a Padula e alle grotte di Pertosauletta. Tanti gli sforzi messi in campo e con i diversi protocolli stipulati si punta a garantire servizi ai turisti e rendere più accessibile il territorio. Di recente quello stipulato tra Trenitalia e Fondazione Mida che garantirà uno sconto ai turisti che raggiungeranno le grotte. Tuttavia bisogna crescere, stare insieme e creare un band Parco Nazionale Cilento Valoridiano al Burno in cui entri anche il sistema Mida che grande successo sta raccogliendo con il neonato Museo del Suolo e come ricorda il Presidente della Fondazione Francesco Antonio Doniria anche quest'anno segnerà un aumento di visitatori. Il Museo del Suolo procede bene, la cosa emozionante è che ci sono scuole, anche gruppi che hanno chiamato per visitare il Museo del Suolo e non per le grotte, quindi questo dà l'idea di quello che si è fatto. Stiamo preparando una grande campagna per l'anno scolastico prossimo che sta per iniziare in effetti e poi sul sistema Mida in generale siamo molto molto contenti sul trend di quest'anno. Non vorrei dare un'anticipazione ma siamo in un avanzare del turismo e dei visitatori intorno al 10%, questo ci incoraggia e ci dice che stiamo sulla strada giusta, sebbene abbiamo la frana all'uscita di Petina che ci toglie tutta la possibilità di essere raggiunti e abbiamo anche che l'ingresso principale ancora, ahimè, non è accessibile. Sebbene tutte queste criticità stiamo rispondendo facendo tutto quello che è il Museo del Suolo, il Museo Spele archeologico, stiamo preparando un convegno internazionale a livello europeo su quello che sono le palafitte in grotta, le uniche in Europa appunto e soprattutto stiamo cercando di promuovere il nuovo spettacolo Cape of Spirits che sarà ogni sabato ad agosto, settembre e poi via di seguito che è uno spettacolo unico nel suo genere, una location come le grotte che è uno spettacolo multimediale e che è un musical che è molto molto emozionante. E si rafforza la collaborazione tra la Banca Montepruno e Radio Alfa per divulgare e far conoscere quindi le attività dei nostri militari impegnati nelle missioni dei paesi devastati dalle guerre. Dal 22 al 27 agosto Radio Alfa racconterà grazie al proprio sostegno dell'istituto di credito diretto da Michele Albanese il difficile compito dei nostri militari impegnati in Iraq con le testimonianze raccolte dal giornalista Embedded Lorenzo Peluso. La Banca Montepruno e il direttore generale Michele Albanese vicini anche ai militari impegnati nelle missioni umanitarie all'estero. Una vicinanza e un contributo che è frutto anche della partnership tra Banca Montepruno e Radio Alfa attraverso lo slogan Orgogliosamente Salernitani. In vista del prossimo impegno come giornalista Embedded Lorenzo Peluso che a breve raggiungerà i nostri militari in Iraq, l'istituto di credito diretto da Albanese rafforza il suo contributo e sostegno a Radio Alfa per far sì che l'emittente radiofonica possa raccontare da vicino e portare fino a noi le testimonianze dei militari salernitani impegnati nell'area più calda e delicata del pianeta. Da un anno infatti ad Erbil, in Iraq, circa 400 militari italiani sono impegnati nell'addestramento delle forze kurde e stanno combattendo contro l'ISIS per liberare l'Iraq dall'invasione dello Stato Islamico. I collegamenti di informazione con Lorenzo Peluso e i nostri militari avverranno in diretta da lunedì 22 a sabato 27 agosto prossimi. L'esperienza ripete quanto già fatto precedentemente in Libano dove Radio Alfa e Banca Montepruno seguirono i giovani militari salernitani impegnati per la missione Blue Line. Come in quella circostanza, anche questa volta Lorenzo Peluso, giornalista inviato di Guerra Embedded di Radio Alfa, sarà tra i primi a recarsi fisicamente in Iraq, in un teatro operativo di guerra dove incontrerà anche un team di militari salernitani impegnati nell'addestramento delle forze armate kurde. La missione prevede anche un passaggio sulla diga di Mosul, in questo momento presidiata dai militari italiani, per impedire ai miliziani dell'Isis di farla saltare in aria, così da impedire che gli stessi possano mettere a punto il piano criminale che consiste nell'inondare la città di Baghdad con la conseguente perdita di migliaia di vite umane. Un ulteriore trasferimento sarà operato nei pressi del confine siriano con il supporto del gruppo elicotteristi dell'Aeronautica Militare Italiana, prima linea dei combattimenti contro lo Stato Islamico. Il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, ha voluto per l'occasione rinnovare il suo ringraziamento al direttore responsabile di Radio Alfa, Antonio Giardullo, per aver voluto coinvolgere anche in questa circostanza la Banca Montepruno, sempre sensibile a creare i giusti ponti di collegamento con gli italiani che sono all'estero. Un progetto dal grande valore sociale che consentirà ai tanti militari impegnati in questa delicata missione di sentire un po' più vicino all'Italia e le loro famiglie. Infine, lo stesso direttore ha fatto il suo in bocca al lupo a Lorenzo Peluso per questa nuova esperienza di supporto ai militari, ma anche di informazione per Radio Alfa e i suoi ascoltatori. Vieni sera a San Pietro Altanagro c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima Sagra della Cipolla che si svolgerà nel centro storico il 14 e il 15 agosto. Una sagra che punta alla valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici, ma è una festa che non si limita ai due giorni della manifestazione, ha alle spalle un progetto strutturato, coinvolge gli agricoltori locali, crea lavoro sul territorio. Durante la conferenza stampa è stata anche presentata la prima guida turistica di San Pietro Altanagro, un'idea dell'assessore Antonio Pagliarulo accolta e sostenuta dall'intera amministrazione. Ieri sera abbiamo ascoltato il sindaco Domenico Quaranta, l'assessore Antonio Pagliarulo, il presidente della Proloco Michele Gian Lorenzo, il referente Conad per il Valloridiano che collabora alla realizzazione della sagra Antonio Biscotti e il responsabile dell'area comunicazione della banca Montepruno Antonio Massandria. Ascoltiamoli. Anche quest'anno si tiene questa bella manifestazione enogastronomica e grazie all'impegno della Proloco dell'assessore Pagliarulo del Comune di San Pietro Altanagro credo sicuramente si riuscirà a confermare questa bella manifestazione con tutte le sue caratteristiche di godibilità come le ha avute sempre ogni anno. Noi abbiamo sempre creduto nella attrattività dei posti del Valloridiano, continueremo con forza a sostenere che il turismo insieme all'enogastronomia e all'agricoltura siano i principali fattori di rilancio di questo territorio. Ovviamente manteniamo inalterato il letmovitiv della nostra manifestazione che è il gusto, il gusto sono i sapori, il mangiare bene qui a San Pietro Altanagro il 14 e il 15 agosto, ma all'interno del menu ovviamente si offriranno quelle nuove pietanze che ogni anno noi sperimentiamo e che offriamo chi viene a trovarci. Le due giornate saranno sicuramente l'insegna dell'allegria, della spensieratezza nel centro storico di San Pietro Altanagro dove si assaporeranno questi profumi a volte anche dimenticati e anche talvolta rispolverando proprio questo sapore della cipolla strano ma all'interno di tutte le nostre pietanze si darà la possibilità a chi interverrà di gustare queste nostre prelibatezze. Abbiamo creato un opuscolo per la riscoperta delle nostre bellezze, per dare la possibilità a tutti di durante un percorso, di fare un percorso dentro a San Pietro Altanagro e quindi verificare ciò, quanto di più bello esiste a San Pietro. La scoperta delle cose della cultura, delle straordinarietà che esistono a San Pietro, il parco dei mulini, le vie dell'acqua, il fontana canale, il lavatoio comunale, danno il senso di quanto è bello realmente questo nostro paese. Il progetto nasce grazie a fondi europei finanziati dal PSL 2007-2013 e coordinati dal GAL Valleudiano, a cui vanno ovviamente i miei ringraziamenti perché senza questo contributo non avremmo poi potuto produrre questa guida e speriamo che questa guida faccia sia qualcosa di bello per promuovere San Pietro Altanagro. La nostra vicinanza a questa manifestazione deriva da un concetto ben chiaro che è stato espresso dal nostro direttore albanese qualche settimana fa. È importante soprattutto che queste determinate manifestazioni rientrano in quella famosa arite del gusto di cui parlava Tommaso Pellegrino. Abbiamo sposato appieno questo tipo di indirizzo essenzialmente perché si era verificata una proliferazione di queste sagre soprattutto di prodotti non locali e non tipici. La festa della cipolla rappresenta non solo la valorizzazione di un prodotto tipico ma è un progetto molto più ampio che non si ferma essenzialmente a quella della trasformazione di questo prodotto tipico bensì è un progetto molto più ampio che è stato ottimamente costruito dall'amministrazione comunale e dalla Proloco che mira soprattutto a creare un'economia dietro questo prodotto attraverso la commercializzazione attraverso la nascita di imprese, attraverso quindi un maggior potenziamento dell'agricoltura. Non è facile sicuramente però sono quelle idee progettuali che piacciono alla nostra banca e questa festa rappresenta al meglio quelli che sono i principi da noi enunciati. Abbiamo raccolto l'invito da parte della Proloco di San Pietro Altanagro a partecipare con un nostro marchio di Conad che si chiama Sapore e Dindorni. Sapore e Dindorni pretende raccogliere tutte le eccellenze nazionali delle varie regioni d'Italia quindi ci è sembrato giusto aderire a questa idea della Proloco di San Pietro Altanagro per valorizzare un prodotto locale che è la cipolla di San Pietro Altanagro quindi saremo presenti con il nostro stand e daremo una mano chiaramente nell'organizzazione sia quella culinaria che quella ambientalistica per far sì che questa sagra riesca nel modo migliore. Ogni anno c'è una novità nuova quindi noi siamo sempre per il nuovo quindi innanzitutto usiamo sempre prodotti nostri, prodotti locali è la cosa più che ci rende orgogliosi di questa cosa perché noi non facciamo la solita sacra è una festa della cipolla per promuovere la cipolla e gli altri prodotti tipici nostri. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale ha preso il via questa mattina presso la certosa di San Lorenzo a Padula il convegno degli iscrittori italo-canadesi organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con la cooperativa Nova Civitas di Padula e con l'Università di Salerno. A seguire per noi la prima giornata c'era Pietro Cusati che ha intervistato Gianfranco Cataldo, presidente della Nova Civitas Filomena Chiappardo, assessore al comune di Padula Licia Canton, past president dell'associazione degli iscrittori italo-canadesi e lo scrittore avvocato Emilio Sarri. Ascoltiamoli. È un programma del convegno molto ricco e siamo tutti entusiasti abbiamo avuto un'accoglienza molto calorosa c'è tanta energia, tanta passione che già nella prima, abbiamo quasi terminato la prima sessione e la prima giornata e già si sente proprio un legame fra i relatori quelli che sono venuti ad ascoltare ma anche fra le persone di Padula e le persone che sono venute da sei paesi perché sono venuti dalla Germania, dalla Spagna dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dal Canada penso che ci saranno delle discussioni delle relazioni molto intense è una ricchezza poter tornare in Italia per tanti di noi che l'abbiamo lasciata da bambini Con l'associazione di iscrittori italo-canadesi abbiamo organizzato anche con la collaborazione dell'Università di Salerno è un evento molto importante che lega queste due realtà quello nostro italiano e quello canadese che sono in realtà profondamente legate noi siamo onorati di ospitare oggi questi scrittori, autori, letterati e professori di letteratura italo-canadese e siamo qui oggi alla Certosa di San Lorenzo per iniziare questo convegno che terrà impegnati questi illustri scrittori per tre giorni, quindi dall'11 al 13 di agosto è un piacere per me essere stato coinvolto anche in qualità di relatore in questa conferenza, sedicesima conferenza biennale degli iscrittori italo-canadesi che è stata organizzata appunto dall'associazione degli iscrittori italo-canadesi dalla società cooperativa Nova Civitas di Padua dai comuni di Padua, Teggiano e Monte San Giacomo nonché dal Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università di Salerno è un confronto sui rapporti tra Italia e Canada dal punto di vista della letteratura anche perché sappiamo bene quali siano stati in passato sono ancora oggi i rapporti con questa nazione anche per via dei tanti emigranti italiani che si sono stabilizzati nel Canada in particolare l'oggetto di questa conferenza è viaggi, partenze, destinazioni quindi il tema del viaggio che ci rimanda ad altri luoghi altre geografie, altri contesti con tutto il precipitato di storie di culture, di civiltà e anche con tutte le problematiche che i viaggi comportano perché quando questi viaggi poi si traducono in permanenze più o meno stabili comportano anche questioni di integrazione con le nuove civiltà con le nuove società questioni di sovrapposizione di identità personale e collettiva questioni di condivisione di altre regole di altri paesi come amministrazione abbiamo subito raccolto l'invito della cooperativa Nova Civitas alla realizzazione è un evento internazionale che quindi porterà una certa rilevanza anche alla conoscenza della certosa di San Lorenzo al di là dei confini nazionali la particolarità e l'importanza è data anche dal fatto che oltre all'amministrazione comunale di Padula ci sono altre due amministrazioni che collaborano come abbiamo visto già ieri nella presentazione e sono l'amministrazione comunale di Teggiano e di Monte San Giacomo quindi gli scrittori si muoveranno sul territorio del Vallo di Diano del Vallo di Diano potendo apprezzare diciamo tutte le bellezze non solo di Padula a Montesano sulla Marcellana continuano gli appuntamenti del cartellone delle manifestazioni estive Museo d'Estate 2016 due gli eventi di oggi presso l'ex convento dei Cappuccini nel prossimo servizio vediamo di cosa si tratta sta riscontrando grande successo di pubblico e di critica la mostra Ex Voto su Scepto secondo promessa fatta inaugurata nel Palazzo Gervasi a Montesano sulla Marcellana e in corso di svolgimento fino al 4 settembre il Museo Civico etnoantropologico e il Museo Didattico della Fotografia in sinergia con l'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana continuano quindi ad organizzare eventi nell'ambito del cartellone delle manifestazioni estive Museo d'Estate 2016 il prossimo appuntamento è fissato alle ore 18 di oggi 11 agosto presso l'ex convento dei Cappuccini sede del Museo Didattico della Fotografia protagonista della manifestazione di oggi è il volume Memorie di Guerra il Cilento e il Salernitano prima, durante e dopo si tratta di un documento storico attraverso cui indagare le due guerre mondiali e in cui sono raccolte una serie di scritti tra cui profili biografici di 5 ufficiali di complemento tutti originali del Vallo di Diano partendo da cartoline lettere, opuscoli e altro materiale si esamina la loro vita in ogni aspetto dalle vicende umane all'attività militare ospite della serata sarà il dottor Antonio Capano che è il curatore del volume alla discussione sulle vicende delle due guerre mondiali analizzate attraverso la vita dei militari seguirà l'inaugurazione della personale fotografica di Pasquale Raimondo dal titolo La Terra di Caino è un viaggio nel campo di concentramento di Sachsenhausen e ogni scatto è un'istantanea di cosa sia stata e cosa abbia significato quell'esperienza di vita vissuta che non è immaginazione né fantasia ma che l'autore spera induca alla possibilità umana della riflessione Anche l'edizione 2016 del Festival Gastronomico con Gusto presentato da Francesca Pellegrino ha fatto registrare grande successo si è svolto sul lungomare di Capitello dove c'era molta gente a seguire la realizzazione di piatti a base di pesce azzurro e melanzane Quinta edizione del Festival Gastronomico con Gusto è ancora una volta un successo e la conferma che i prodotti del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni possono da soli completare e rendere speciali tutte le ricette dalle più semplici alla più elaborata dalle più delicate alle più gustose Lo scorso 5 agosto sul lungomare Capitello nel comune di Ispani in una serata brillantemente presentata da Francesca Pellegrino in coppia con Giampaolo Trombetti grandi chef si sono sfidati davanti ad una giuria di esperti del settore gastronomico Anche questa edizione 2016 ha fatto registrare un grande successo di pubblico con il lungomare di Capitello Gremito per seguire la realizzazione dei piatti preparati da quattro chef in gara rispettando il tema conduttore utilizzando ingredienti protagonisti di questa quinta edizione del Festival Gastronomico che sono stati la melenzana e il pesce azzurro due prodotti tipici della dieta mediterranea la realizzazione delle ricette è stata affidata agli chef in gara con Pietro Benincasa che ha realizzato un piatto di ondina con pesce bandiera cozze e scamorza su velutata di melenzane Mario Massa con il piatto tagliolini con crema di mozzarella fumè di melenzane e tartare di alici Pino Mannarino con il piatto cornucopia di strozzapreti con alici e melenzane e Salvatore Califano con il piatto ravioli aperto di melenzane con tartare di sbrunzo gli chef hanno lavorato alla realizzazione delle pietanze sul palco utilizzando esclusivamente questi prodotti protagonisti dell'edizione 2016 del Festival e aiutandosi con l'aggiunta di altri prodotti a chilometri zero i piatti in gara sono poi stati valutati da una giuria di esperti composta dai giornalisti Carla Diamante e Diodato Buonora e dagli chef Antonio Lauri e Nicola Radesca alla presenza anche del professor Nicola Gasparro dopo accurate valutazioni si è raggiunto il verdetto che ha dato vincitore lo chef Salvatore Califano del ristorante meridiana di Pestum il festival gastronomico con gusto non è stato soltanto cucina e valorizzazione del settore gastronomico ma ha anche tanto spettacolo il momento clou della serata infatti si è avuto con la presenza di Salvatore Esposito alias Jenny Savastano protagonista principale della fiction Gomorra oltre 3.000 persone hanno affollato il lungomare di Capitello dove erano state allestiti anche stand gastronomici molto apprezzata la presenza del maestro siciliano Giuseppe Triolo che dal vivo ha preparato cannoli siciliani per la delizia di tutti i presenti il gruppo di musica popolare Tamorrasia infine con i cantanti Gaia Greco e Tino Fimiani hanno allietato la serata gastronomica Francesca Pellegrino dal palco della manifestazione ha ringraziato il sindaco Marilinda Martino l'amministrazione comunale e la proloco di Spani per il sostegno che hanno dato l'evento è stato reso possibile grazie anche al contributo del pastificio Antonio Amato e dei fratelli Perazzo official sponsor della manifestazione dopo il successo della passata stagione con i ritiro a Sassano anche quest'anno la primavera della Salernitana sceglie il Vallo di Diano infatti a partire dal prossimo 16 agosto i Granatini saranno a Polla e Sant'Arsenio per il ritiro precampionato e rimaniamo in casa Salernitana oggi al via la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia contro il Pisa di Domenica dal mercato intanto arrivano novità che riguardano l'acquisto dell'estremo difensore Iliadis mentre si avvicina Rosina Si giocherà domenica alle 19 a Gubbio il terzo turno di Coppa Italia che vedrà la Salernitana affrontare il Pisa un match che inizialmente doveva disputarsi alla Rechima in virtù dei problemi del manto erboso si è dovuto giocare in campo neutro i Granata sono pronti a sfidare i Nerazzurri che hanno eliminato a sorpresa il Brescia nel turno precedente Salernitana che dovrebbe presentarsi con la formazione di tipo e la coppia d'attacco Coda Donnarummo con quest'ultimo sempre al centro del mercato ma con la società Granata che ha alzato un muro sulle richieste che piovono sul ragazzo di Torre Annunziata al via oggi la vendita dei tagliandi per la sfida del Barbetti sono 1100 i tagliandi messi a disposizione per i supporti sgranata mentre 800 per il Pisa ad arbitrare la partita sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 assistito da posato e depinto entrambi della sezione di Bari quarto uomo Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano intanto sul fronte mercato nelle scorse ore data l'ufficialità del portiere classe 96 Michaelis Iliadis assicurandosi così le prestazioni del ragazzo fino al 2018 con opzione di rinnovo a favore della società il ragazzo proviene dall'Iraq nessuna presenza nello scorso campionato di Serie A greca dove ha difeso i pali della formazione primavera cresciuto nel settore giovanile dell'Olimpico dove ha disputato qualche gara anche nella Youth League la Champions League delle squadre giovanili possibile pertanto la partenza di Luca Liverani richiesto in Lega Pro caso Rosina il Catani e il fratello procuratore del ragazzo hanno trovato l'accordo una buona uscita di circa 200.000 euro che apre la strada alla Salernitana con il quale il ragazzo ha già un accordo di Massimo le chance di vedere quindi tra l'ex tra le altre di Torino e Zenit in Granata la prossima stagione sono in crescita in entrata ci sono anche i nomi di Riccardo in prota esterno e seconda punta di proprietà del Genova in quota under calde le piste che portano a Michele Troiani del Chievo e Luca Germoni della Lazio mentre difficile l'arrivo di Giorico dal Modena in attacco Granoce si è proposto ma dovrebbe restare a Modena mentre c'è l'ipotesi Marilungo e il possibile ritorno di Bush e con lo sport si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro buona giornata Grazie a tutti